Manca solo la firma e poi sarà ufficiale. Thomas Kupisz vestirà la maia del Bari per la prossima stagione. Il polacco classe 90 arriva nel capoluogo pugliese dopo una breve parentesi a Livorno, in prestito dall'Ascoli. Alla destra o trequartista, fisico longilineo, abile crossatore e bravo negli inserimenti, fanno di Kupisz l'uomo ideale per il gioco di Cornacchini. Il polacco vanta un discreto curriculum. Poco più che ventenne, muove i primi passi nel calcio professionistico, debuttando in Europa League con lo Jagiellonian. In poco tempo dimostra il suo valore, diventando un punto fermo della squadra polacca. In Italia ha giocato quasi totalmente in cadetteria, riuscendo ad imporsi in ogni club, collezionando gol e assist, il suo vero marchio di fabbrica. Thomas Kupisz arriva a Bari dove firmerà un triennale. Proprio nella mattinata di oggi, infatti, c'è stato un incontro tra il Bari e l'entourage del giocatore, dove sono stati definiti gli ultimi dettagli. Grazie. Grazie a tutti.